Sto meglio, ho ripreso ieri a lavorare a parte, adesso bisogna valutare giorno per giorno quali saranno le mie condizioni. Io spero con tutto il cuore di Enzo mi prenderà dal mister, se dall'inizio, anche in ultimo modo. Io faccio di tutto quella sia a disposizione, poi vediamo. Abbiamo analizzato la partita di domenica come facciamo sempre il giorno che riprendiamo gli allenamenti e poi abbiamo cercato di capire come affrontare questa settimana, che inutile nasconderlo, ci porta la partita di Pistoglia che è importantissima. Abbiamo fatto questa chiacchierata tra di noi come magari l'abbiamo fatto già altre volte durante l'anno, cercando di capire bene come affrontare questa settimana e questo momento della stagione. Non è stato detto niente di particolare. Si vince intanto facendo gol e non prendendo, poi dobbiamo fare una gran partita, ho poco da dire. Dobbiamo andare là e fare una grossa partita di solidità, di attacco, fare una gran partita, cercare di fare questa impresa che forse è quello che ci è mancato quest'anno. La partita che magari fa scorcare la scintilla dentro ognuno di noi e fa fare delle cose magari non impensabili, ma in cui è difficile crederci in alcuni momenti. Noi invece ci crediamo, ci abbiamo sempre creduto e vogliamo continuare a crederci. E per continuare a crederci dobbiamo fare una grossa partita.